Ciao, allora nuovo punto di vista della ripresa dove ho messo il telefonino dentro al pensile della cucina. Perché l'ho messo lì ma perché niente, volevo trovare un punto nuovo e mi sono piazzato una luce e via. Però non credo che questo abbia molta importanza. Sono in casa perché ho la sciarpa, perché è morbidissima e perché me la sono appena comprata, per far girare l'economia. Allora io avevo bisogno forse di una sciarpa, forse diciamo di una sciarpina. Ce n'avevo già 3-4 di cui 3 non le mettevo, ne mettevo solo una. Ho detto beh, per quelle due che non metto più le ho buttate via, perché se non le metti le butti via. Ma non buttate via via, le ho messe in quei cassonetti gialli dove vengono riciclate. Allora ho detto mi rimane una sciarpina, solo me ne compro un'altra. C'è tutto un video per parlare della sciarpina, perché la tengo in casa per fare pubblicità. Perché? Perché facendo girare l'economia il nostro paese si può riprendere, forse. Io questa sciarpina l'ho presa alla... è morbidissima, è sintetica, non è di lana, ma io ho il problema è che soffro la lana sulla pelle, per cui o piglio una cosa di cotone o la piglio sintetica. Sto qui sintetica al cento per cento. Il bello è che la commessa mi fa, guardi, è di acrilico al cento per cento. Io ho detto sì, cioè non è un vanto avere le cose di acrilico. Invece è morbida come fosse di cashmere. L'ho occupata la Combipel e mi dice, ma se facciamo pubblicità? Perché faccio pubblicità? Perché il video è mio e faccio quel cazzo che voglio. Allora io sono andato lì in quel negozietto, non negozietto, negozio per la settimana scorsa. No, questa settimana che era aperto nel giorno feriale, no? Sono andato e volevo un paio di guanti. E ho trovato un paio di guanti. La commessa sveglia, sveglia, ha detto, potrebbe abbinare una bella sciarpina a questo paio di guanti. E io ho detto, ma no, grazie, non ne ho bisogno già. Mi stanno sulle palle le commesse che insistono, che vogliono venderti. Però questa non era insistente, ma solo ho detto, potrebbe abbinare una sciarpina. Allora ho detto, guarda, sì, guardi, potrei anche vedere una sciarpina perché forse ce ne ho bisogno. Però io non ci vedo tanto, ci vedo poco, per cui non vedo, riesco a sentire a livello tattile la qualità del manufatto, diciamo, ma non ci vedo, non vedo tanto i decori. Ah no, ma l'aiuto io. Allora, questa gentile è venuta, mi ha fatto vedere questa qui che aveva le fasce grigie, c'aveva un po' di marroncino. Ah, guardi, questa qui che ha quel marroncino qui, si abbina bene con i guanti marroni che ha preso. E in effetti ho detto, ma sì, io volevo un paio di guanti, ma ho chiesto quanto costava, c'era il Black Friday, insomma una sciarpina, bella, bella, costava 9 euro. Ma sì, pigliamola, certo che la pigliamo. E poi questa qui fa, poi eventualmente si può anche prendere un maglioncino, gli faccio, no, no, ce ne ho già diversi, non mi serve. Allora, lei comunque era molto discreta, non era insistente, i maglioncini erano lì nel banco di fianco a me, a me piacciono le cose un po' colorate, ho trovato un maglioncino giallo, giallino, e aspetta, aspetta un attimo che metto in pausa lo vado a prendere, che faccio pubblicità, aspetta. Ecco, allora, questo che è la televendita? Questi sono i guanti che ho preso, belli, di pelle, con l'interno di lanina, non so cos'è, che si abbinano alle righine della sciarpina. E questo è il maglioncino che ho preso, giallissimo, perché ce ne avevo già un paio grigie, un paio, sto facendo un ricambio, ho buttato via una marea di roba, sempre nei cassonetti, ho regalato e sono rimasto con pochissimi capi, nel senso tre pantaloni, quattro pantaloni, cinque camicie, una cosa del genere. E ho buttato via tutto quello che non mettevo, cioè quando c'è una cosa in un cassetto che tu non usi, non che non usi il cassetto, non usi il contenuto, per mesi, mesi, forse anni, cosa lo tieni a fare? E allora ho regalato tutto quello che potevo regalare. Però, se c'è una cosina che mi viene voglia di prendere e che costa, che nonostante il Natale, ecco, costa relativamente poco, me la prendo. Maglioncino colorato, io questo me lo metto adesso perché sono contento. Rimango con cinque cose anziché quattro nel mio armadio e va bene così. Il bello è che io volevo parlare del governo, in questo video volevo parlare del governo e invece ho parlato della sciarpina, no? Poi mi giro un altro, mi sono mosso la lingua, sul governo, ma volevo parlare, niente, ne ho profittato per parlare così, un po' di economia attraverso i miei acquisti. Ah, i negozi della Combipel, non l'ho detto, ma è giusto fare pubblicità. Poi cosa ho fatto? Ho mandato una mail alla Combipel ringraziando per come sono stato servito dalla signorina, penso forse la signorina, non lo so, dalla voce, perché dalla fisionomia non riuscirei a capire, l'ho già detto in altri video, siccome ci vedo poco, non riuscirei a capire se i tratti somatici, quindi che uno abbia vent'anni o ne abbia quaranta non riesco a capirlo, però ecco dalla voce mi sembrava giovane e ho mandato una mail di ringraziamento come segnalazione sul sito della Combipel dicendo che sono stato servito in modo impeccabile, che sono entrato per comprare una cosa e sono uscito felicemente con tre acquisti e quindi facevo i complimenti alla detta alla vendita. Stessa cosa ho fatto con il negozio della Blue Spirit, mi pare si chiama. Adesso ti metto in pausa un'altra volta perché questo qui è diventato un video però aziende, un video promozionale, ma queste aziende non mi conoscono, non è che mi stanno pagando per questo. Aspetta che metto via, che non voglio che si rovini. Una cosina per mia cognata, per ringraziarla di come ha assistito mia mamma in questi anni fino al momento in cui mia mamma è mancata e poverina Monica, appunto mia cognata è stata grande, quindi grazie, grazie Monica, l'ho preso una cosina. e niente, anche lì mi hanno trattato da Dio e niente, per questo braccialetto mi hanno fatto l'incisione così. Poi abbiamo scherzato un po' sull'incisione perché mentre aspettavamo che la macchina finisse il lavoro ho raccontato alle due signorine, due ragazze, non so, che erano lì in negozio, un episodio di quando mia nonna anni fa mi ha regalato un braccialetto d'argento, no? E allora mi fa sai, perché lei mi chiamava Ottorino, non mi chiamava Ciccio perché diceva che Ciccio era così, non era bello, non era signorile, no? E allora mi fa Ottorino per Natale, ecco, ti ho regalato questo braccialettino d'argento, grazie nonna, fantastico, grazie. E mi fa, nella targhettina non sapevo se volevi scrivere Ottorino oppure Ciccio. Allora te l'ho lasciato in bianco, poi me lo dici, io vado dall'orefice e gli faccio fare l'incisione. Allora lì mi è venuto un lampo di genio, un lampo. Allora ho detto, nonna facciamo così, sulla targhettina scriviamo niente. E lei, eh niente, allora non vuoi niente? No, 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 voglio la scritta niente. Allora le ho spiegato che io volevo che sulla targhettina ci fosse scritta la parola niente. Ed era uno scherzo che io facevo, ma penso a te che è deficiente, uno scherzo che io facevo a tutti quelli che avrei conosciuto da quel momento in poi, che vedendo il braccialettino mi avrebbero chiesto, ah Otto oppure ah Ciccio, cos'è che c'è scritto lì nel braccialettino? Io faccio niente. Ma come niente? Cioè si vede che c'è un'incisione. Fai vedere e loro avrebbero letto la parola niente. insomma, è un gioco, no? È un gioco. E allora, scusa, mia nonna va dall'orificio, no? E glielo spiega, però poverina, era anziana. E poi questo qui ha pensato che mia nonna non avesse capito niente. Niente. Ha voluto, ha voluto telefonare a casa mia chiedendo di me. Poi allora non c'erano i cellulari. Insomma, mi ha beccato e fa, scusi se era disturbo, ma c'è la sua nonna qui. Forse io non ho capito, ma vuole una scritta niente. Allora glielo ho spiegato, no? Allora quello, ma non è che si è fatto una risata. Ah va bene, allora scriviamo la parola niente. Allora glielo ho raccontata a queste ragazze, così, per intrattenerle un attimo. C'era una desolazione nel centro commerciale. Allora io ho già il centro commerciale, non ci vado mai. Ci sono andato per, tra virgolette, far girare l'economia, no? Così, per fare due, tre acquisti di pochi euro, mica grandi investimenti. Però ho detto, dai, saremo in dieci in tutto il centro, infatti era così. Negozi aperti, ma a desolazione totale. Anche perché tutte le aziende che vendono cibo erano chiuse. Tutte, per cui le bancarelle che di solito ci sono al piano terra erano chiuse, non c'erano proprio. C'era solo aperta la co-op, però con poca gente dentro, e nei saloni dei negozi non c'era nessuno. Ma nessuno, nessuno. Sono andato a comprarmi da Calzedonia delle calze di lana, sono andato a comprarmi due gioiellini lì al Blue Spirit, e ecco, in quell'occasione ho scritto anche la Blue Spirit ringraziando per la cortesia delle ragazze. Ho pensato, ma, tanta gente scrive nei siti per lamentarsi, ah, lì mi hanno trattato male, ah, lì, eh. Io so che dopo il marketing gli fa un culo bestiale le commesse. Per cui, se invece c'è qualcuno che scrive una mail dicendo, sono contento di aver fatto acquisti da voi, e ritornerò perché sono stato trattato bene, ma, forse è un punto in più che arriva alle persone che sono lì a vendere, e che magari ne possono avere bisogno perché anche questo è un modo di far girare l'economia. È vero che loro sono assunte e quindi non è certo attraverso la mia mail o il mio acquisto di due gioiellini che hanno il posto assicurato. Però il fatto che gli arrivi una mail di ringraziamento, io penso che se devono lasciare a casa qualcuno, non lasciano a casa loro, oppure, oppure può darsi che possa, che possa comunque essere utile anche di incoraggiamento a tutti, a tutti, sia alle ragazze che sono lì a vendere, sia all'azienda stessa, non lo so, non lo so. Io ci ho messo cinque minuti a mandare sta mail e l'ho fatto anche in altre, in altre occasioni. Oltretutto so che se il centro commerciale il sabato e domenica, cioè oggi, è chiuso, queste persone sono messe in cassa integrazione per quei giorni. In cassa integrazione significa, è vero che stanno a casa e non lavorano, ma significa che prendono lo stipendio al 80%, ma anche meno, mi sembra, che ti arrivano i soldi dopo mesi e che quindi tu che lavori in quel negozio lo prendi in saccoccia. Il fatto è questo. Quindi adesso non so come trattino Calzedonia, come trattino Combipel o quest'altra, o la Blue Spirit, come trattino i dipendenti. Io so quello che avviene in altre aziende, di cui non faccio il nome, che vendono calzature e trattano i dipendenti malissimo da questo punto di vista. Cioè sono l'ultima ruota del carro, quando invece dovrebbero essere la risorsa dell'azienda. Detto questo, io volevo parlare del governo e mangi un altro video. Sono contento di aver dedicato questi minuti a questi negozi, alle persone che ci lavorano, perché se lo meritano, perché sono lì a farsi il culo e comunque anche lavorare in un ambiente in cui c'è una desolazione, una devastazione totale, non è bellissimo. Anche se porti a casa i soldi dei stipendi, non è assolutamente bello. Per cui, niente, incoraggiamo queste persone e facendo i nomi delle aziende, facciamo girare un pochino l'economia, nel nostro piccolo, nel nostro piccolissimo. Ciao a tutti.